Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci troviamo nella clausura del convento dei frati minori Cappuccini, un luogo che attraversava spesso questo, il corridoio Padre Pio. Oggi qui per raccontarvi la storia di Alessandro che ci ha mandato un'email a questo indirizzo che vedete in sovrimpressione. Alessandro ci aveva già raccontato di suo papà che è stato figlio spirituale di Padre Pio, che lo ha incontrato e anche abbiamo raccontato di un episodio nella Sacristia Antica e qui Alessandro racconta anche l'episodio che riguarda la conoscenza che lui fece con uno dei fondatori dei frati minori rinnovati di Palermo, a cui uno di questi doveva la sua vocazione a Padre Pio. Infatti dice che frequentava l'oasi San Giacomo a Vago di Lavagno, provincia di Verona, tenuta da fratello Vittorino dell'Opera di Don Calabria, dove arrivò un giorno questo frate che fu tra i fondatori dei rinnovati di Palermo, arrivò a piedi, piedi scalzi, senza calze e senza sandali, aveva nel cuore il desiderio di concelebrare una Santa Messa in Vaticano con il Santo Padre. A San Giacomo spesso veniva anche a ritirarsi in preghiera Don Giovanni d'Ercole, a quei tempi responsabile della comunicazione in Vaticano, e fratello Vittorino ottenne questa possibilità di andare in Vaticano. Insieme io e i tre lo accompagnammo a Roma in automobile. Fu bellissimo vederlo regalare immaginette della Madonna a grandi personaggi che incontravamo nei corridoi Vaticani dove poi ottenne di assistere alla Santa Messa del Santo Padre nella cappellina privata. Al ritorno accompagnandolo a Padova per alcune commissioni dove mia zia Sara era stata ricoverata in ospedale per dei controlli. Mia zia era devota di Padre Pio, la cui immagine la teneva sempre sul comodino. Frequentava la Santa Messa ma non era una, racconta Alessandro, una cattolica eccezionalmente fervente, una cattolica per tradizione diciamo, anche se di modi signorili e buoni. Arrivammo con quel frate in ospedale, trovammo mia zia in salute e ci accolse in piedi. Una normale visita di cortesia ma il frate le chiese subito se voleva confessarsi. Io stavo cercando di stemperare rispondendo che forse non era il caso perché conoscevo mia zia ma mia zia sbiancò e aderì immediatamente a questa proposta della confessione. Il giorno dopo tornai in ospedale per salutare ancora mia zia ma nella notte era morta. Penso sempre a quel frate che fu proprio Padre Pio secondo me a mandarlo da mia zia e che attraverso lui ottenne la salvezza dell'anima.